Tre serate da venerdì ad oggi, da mattina a sera, buona cucina con i piatti tipici, giochi e musica e insieme nella Contrada la manifestazione organizzata dalla Proloco di Elsie che quest'anno si svolge in Contrada Serre. La soddisfazione è che ogni volta siamo stati capaci di adattarci al luogo e di trasformarlo, nel senso di convertire un luogo che è un campo, un terreno coltivato, e trasformarlo in un luogo di divertimento dove si fa festa, si mangia, si possono gustare delle specialità gastronomiche e la grande soddisfazione è che la popolazione, i cittadini di Elsie ma anche di fuori attendono questo evento e sono contenti di venire perché è una scoperta nuova. Tanta soddisfazione anche da parte del Comune per la buona riuscita di Insieme nella Contrada che ha portato a Elsie, come sempre, tantissime persone e visitatori, una manifestazione itinerante che mira a far conoscere meglio il territorio. Ogni anno ci spostiamo, itinerante. È più faticosa perché bisogna organizzare tutto, quindi bisogna portare dalla corrente elettrica fino a tutte le altre cose, però la cosa bella è proprio che riusciamo a spostarci ogni anno. Ogni anno c'è parecchio apprezzamento da parte delle persone, sia di Elsie che di fuori, perché scoprono luoghi, non solo li scopriamo noi quando veniamo a fare sopralluoghi, ma poi durante le giornate e le serate di festa scoprono dei luoghi che altrimenti non avrebbero mai scoperto e quindi questo ci inorgoglisce e ci fa sperare per un proseguo pure nei prossimi anni. Soddisfatti anche i ragazzi della Proloco Young che hanno aiutato gli adulti a organizzare la decima edizione di Insieme nella Contrada, lavorando con passione ed entusiasmo. Allora, per le tre serate di questa decima edizione della festa incontrata abbiamo preparato una pesca con oggetti che ci sono stati offerti dai negozi del posto e inoltre ci occupiamo come aiuto cucina e per la terza serata abbiamo proposto anche uno sketch fatto da noi.